Sicuramente tanti di voi, come succede sempre in concerto, soprattutto le ragazze solitamente, conservano ancora quella classica scatola di cartone o qualcosa del genere, insomma dove buttare dentro tutti quei piccoli oggetti, dalle fototessere, al biglietto di un concerto, a una musica a sette, tanti piccoli oggetti, oggetti apparentemente inutili, dei quali però che riusciamo assolutamente a separarci, probabilmente per il lato malinconico di ognuno di noi o qualcosa che ci lega profondamente al passato e di trasloco in trasloco ci portiamo sempre dietro questa ragazza di scatola che non sappiamo dove mettere, la mamma che cazzo ci fa ancora con questa scatola, gli oggetti veramente inutili, questa è la nostra scatola. Grazie a tutti Grazie